Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Gesù, sei entrato in quella casa come ospite, atteso e amato. Era il tuo porto sicuro. Betania, la casa del povero, la casa dell'amicizia e della condivisione. Avevi bisogno, come ognuno di noi, di amici. Marta, Maria e Lazzaro erano tuoi amici. Amici veri, da essere amati, così come sono. Amici per cui un giorno piangere e donare la vita. Non c'è un amore più grande. Marta è amata da te, donna concreta, decisa e sincera. Ma in quel giorno era distratta. E tu la chiami due volte. Marta, Marta. Come se le dicessi, fermati, fermati un attimo. Ho bisogno di te, di poterti guardare negli occhi e di comunicare con te, con parole o silenzi, come veri amici. Caro Gesù, mi immagino Marta che a quel punto, un po' goffamente, abbia asciugato le mani al grembiale e si sia messa accanto a Maria a godersi te, il suo Gesù. Tanto il pranzo era già pronto sul fuoco.